Una bacchettata, riservata a molti comuni del Mezzogiorno da parte del Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampolino. I comuni a rischio dissesto sono molti, visto che le spese non scendono abbastanza perché pesano costi di personale e interessi sul debito, oltre al fatto che nei bilanci, dice, ormai da anni rileviamo situazioni patologiche nelle quali vengono accertati avanzi di amministrazione inattendibili o relativamente attendibili. Luigi Giampolino ha sottolineato anche come i comuni non si impegnino abbastanza nella lotta all'evasione, nonostante sia loro destinato il 50% degli eventuali introiti. Quanto alle lamentele dei comuni per i troppi interventi di tagli, ultimi quelli della spending review, manovre di rigore finanziario, dice Giampolino, comportano, in presenza di elevata rigidità della spesa alla necessità di maggiori erosioni della spesa discrezionale e tra queste anche quella di carattere sociale.